Ciao! Oggi non vedremo la maglia di una squadra di calcio, ma bensì questa bellissima tuta della Nike in questo abbinamento di colori. Sei pronto per sfoggiare il calore e il comfort della tua felpa con cappuccio preferita per i giorni di festa pur mantenendo un look essenziale? La tuta Nike assicura il giusto equilibrio grazie al design leggero a taglio basso che trattiene il calore senza pesantire. Puoi abbinarla facilmente a qualsiasi outfit per il relax a casa e gli spostamenti quotidiani in città. La vestibilità con collare più alto nel cappuccio permette di mantenere la pelle asciutta anche in condizioni climatiche calde o quando piove. Questa tuta è realizzata con l'innovativo tessuto Tech Fleece di Nike che offre calore e leggerezza. Presenta una chiusura con zip interna e un cappuccio fisso a quattro pannelli per una copertura extra. Cosa ne pensate? Secondo me questa tuta è molto bella, peraltro molto confortevole e che tiene tantissimo caldo nelle giornate fredde, questo è veramente una manna dal cielo. Qui in alto vedete il costo per il completo così come lo vedete e tra l'altro oltre ad avere una grandissima, una buonissima qualità anche dei tempi di spedizione molto veloci. Vi ricordo che in descrizione qua in basso trovate tutti i riferimenti per ordinare questa tuta e anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per prendere quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità, spero che il video vi sia piaciuto e spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao!